Reccoci insieme con il Bianchiorosso TV Sport e con il nostro ospite Massimo Marzullo, presidente Xen Bari, c'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Sebastiano. Ciao Sebastiano. Un saluto all'ospite ovviamente. Ciao. Allora Enzo, ascolta, io non apporteri grandi modifiche alla squadra. Allora, fai con la tua formazione. Perché prima di Brescia andava bene. Fai la tua formazione. Allora, quindi metterei il gilet ovviamente, poi Belmonte, Andrea Masiello, Marco Rossi e poi o Parisi o Salvatore Masiello. Però con Parisi avvantaggiato perché è parecchio in forma. Poi a centrocampo metterei Donati e Almiron, metterei poi Rivas e Alvarez, con Ghezzal e Barreto avanti. Ghezzal perché è l'unico che può fare gol insieme a Barreto. Va bene, quindi Massimo Marzullo sta avendo un grandissimo successo. 080-501-9998, abbiamo chiamato il tema del giorno un giorno d'avventura. Fate voi la formazione nel Bari, visto che c'è molta incertezza. Credo che sia un'incertezza più dall'esterno perché Ventura avrà sicuramente le lezioni chiare delle nostre. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radiobari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Altro amico in linea, pronto? Ezzo, ciao. Mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Ciao, Mimmo De Rosa. Ciao, caro Mimmo, ciao, ciao. Allora, per un giorno provo a fare ventura. Vai. Do le dimissioni, non mi hanno preso Giovenco. Va bene, ok. No, non ho scattato. Io proverei, scherzi a parte, donati sulla fascia sinistra come abbiamo giocato qualche volta l'anno scorso con Allegretti. Con Allegretti, sì. Per avere un po' più di densità a centrocampo perché forse con la Lazio un uomo in più a centrocampo potrebbe servire. Grazie, grazie Mimmo, grazie, grazie. Sentiamo invece che ne pensa Gile, Gile che oggi ha parlato con la stampa. Sentiamo. Una cosa che si poteva fare magari prima, visto che mia moglie è italiana, però giustamente io non sono per queste cose. Io sono nato in Belgio, sono belga e è giusto che sia a disposizione della mia nazionale. Comunque è un grande rispetto per la Lazio perché essere la capolista in Italia, nella serie italiana, è molto difficile. Vuol dire che loro sono lì, hanno grandi giocatori, grandi valori e noi dovevamo fare una super gara per vincere. Però siamo in casa, veniamo una sconfitta e c'è da riscattare la partita a Genova. Sì, sì, ma loro sono sempre stati ai nostri fianchi, ci hanno sempre aiutato. Giustamente loro è una grande spinta per noi, speriamo che siano il più possibile perché domenica affrontiamo veramente una grande squadra. La Lazio ha grandi giocatori, come l'ho detto, dopo sei giorni si è in testa della classifica, vuol dire che è una squadra importante. Sicuramente come individualità sono messi bene. Allora, questo Gillet che ha parlato poco fa al San Nicola, Gillet che sfiderà, sarà una sfida, Muslera, che è uno dei portieri più in vista del momento. A me non piace, devo essere sincero, si parla di giungere un gran bene, questo portiere a me fa paura il Muslera, nel senso che è sempre la sensazione che prima o poi ne combini una grossa. Magari fa anche delle parate spettacolari, come Gillet è molto bravo a parare i calci di rigore, però nel complesso non mi sembra un portiere così strutturato. E mi avviso, non a caso, la Lazio non gli sta ancora rinnovando il contratto perché c'è una diatriba legata proprio al rinnovo del contratto di Muslera. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Mino Damodugno. Ciao Mino, voce nuova o nome nuovo? Sì, la prima volta che chiamo. Meglio così. No, io volevo proporre una cosa, secondo me deve giocare Ghezzale in attacco, perché secondo me è la stessa storia dell'anno scorso con Eto'o nell'Inter, che giocava esterno-destro, giocando in attacco. Magari lo mettiamo in attacco esterno come Eto'o, infatti, 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 va bene. Solo questo volevo dire, poi un saluto a Lino. Va bene, salutiamo Lino, lo salutiamo anche noi. Hai lanciato il tema della trammissione. Fa piacere. Ghezzale in attacco lo voglio vedere tutti. Intanto, insomma, è un inciso, non sono più nel Bari, però dobbiamo fare i complimenti a Conte Perinetti, che volano con il Siena abbondantemente primatista del campionato di Serie B, anche se bisogna dire che, insomma, con quella squadra è difficile non essere fra le prime tre. Assolutamente. Prima in classifica, occorre anche del merito. C'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto. Eccoci. Buonasera, finalmente ho avuto il piacere di intervenire. Oggi è il giorno delle primizie, allora, dei debutti. Sì, la prima volta. Senti, io comunque vi faccio i complimenti, perché quanto mi riguarda e quello che vedo è una delle poche, se non la sola, a parlare del Bari. E' positivo poi, perché ci sono altri che parlano del Bari ed è strano che parlano male. Cioè, in tutte le città ci sono i giornalisti che parlano della propria città e parlano bene. Cioè, no, per sentire parlare bene del Bari dobbiamo sentire parlare dai giornali di Milano. Anche noi facciamo le critiche, ma devono essere costruttive. Buttare a mare quello di buono che c'è è un peccato, insomma. No, 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 ecco, c'è un complimento a voi come giornalisti, perché comunque vi ritengo delle persone serie. A parte qualcuno che era un ospite, che non lo sopporto, non lo sopporto. Ma no, eh, però io lo riportiamo con affetto. Scusa, io dico una cosa. Noi abbiamo la fortuna, oggi, di avere, secondo me, il più bravo allenatore della Serie A. E giustamente non abbiamo comunque soldi per poter avere una squadra che possa competere a livello degli altri. Però, comunque, io devo fare i complimenti sia al Bari sia ai giocatori. Perché avere Alvarez, non tutte le squadre hanno un giocatore come Alvarez. È vero che sbaglia, qualche volta sbaglia. Però Alvarez, se non sbagliava qualche volta, era uno dei più forti. Non l'avrebbero fatto giocare in Serie A, doveva giocare in un altro campionato, ancora più giusto. Invece di fare delle critiche, demolire quello che sta di buono, cerchiamo di portare in alto di più. Perché comunque lo merita, Silbari, anche Mattarreso lo merita. Io faccio i complimenti a questa squadra e soprattutto a Ventura. Grazie, grazie, un abbraccio, spero di risentirti. Grazie. Allora, parliamo di tifosi, pubblico e telespettatori. Devo dire che Pino Di Grumo è ormai diventato un personaggio, al pari del signor Basta, della trasmissione. Però non mi aspettavo che avesse addirittura una vena creativa e artistica. Perché su internet ho trovato un collage di teste, volti strani, tra cui il mio. Possiamo far vedere, guardate cosa ha combinato Pino Di Grumo. Credo su Facebook o comunque su internet. I miei collaboratori hanno scaricato quest'immagine mostruosa che adesso vi farò vedere e capirete di cosa si tratta. Non è tanto questa, questi sono i Pirati del Bari. Questa è molto bella. Se sfogliamo ancora, se c'è qualche altra immagine, vi faccio vedere a cosa faccio riferimento. Anche questa va bene, adoro gli squadroni ben riusciti. A team e poi celebrativa di Bari-Brescia 2-1 con Rivas che cavalca la Leonessa. Bari-Cagliari, la famosa tiedda di patate di seccozze. Safari-Bianco-Rosso, Juventus a battuta con Donati e Ventura. Poi gladiatori-Bianco-Rossi nella Casa del Serpente. Qui insieme Napoli-Bari 2-2 con Castiglio, Barreto in versione e Pizzaioli. Fermatevi qui, questo Marilyn Manson sarei io praticamente, con accanto Abba Tantuono, Gigi Frisini e Gianni Antonucci. Obiettivamente questa non me l'aspettavo, va bene così. Accetto anche se Marilyn Manson non mi fa impazzire, se proprio deve essere sincero. Complimenti a Pino Di Grumo e alla sua creatività. Torniamo insieme, torniamo insieme 080 501 9998. Oggi vi state trasformando da Giampiero Ventura, state facendo la vostra formazione. Allora chiamatecelo 080 501 9998. Senza dimenticare che ci sono i premi Xen domani sera con Ventura, Masiello, Protti e Antonio Raimondo fra i premiati. Qual è il criterio di scelta dei premiati? Qual è il far bene, basta oppure occorre altro? Beh, indubbiamente bisogna far bene chiaramente, però come criterio c'è un'equipo, un gruppo che appunto si riunisce. O salutiamo il tuo papà Mimo Marzullo, immagini sia in visione d'ascolto, guarda sempre la trasmissione, sarebbe il comodo di guardarsi te. Quindi ti dicevo, è un lavoro di equipa, un lavoro di squadra, ogni anno si sceglie chi ha fatto meglio nella passata edizione sportiva. C'è un amico in linea, 080 501 9998, pronto? Ciao Enzo, sono il tifoso del Bari, sono Giacomo. Ciao Giacomo, ciao. Vorrei dire la formazione. Vai, vai, buttati, buttati. Allora, impor gilet, Belmonte, Rossi, Andrea Massiello e Salvatore Massiello. Sì. Poi Gazzi e Donati, poi esterni, Alvarez e Riva. Sì. Com'è Punta, Barreto e Castiglio. Hai fatto fuori Almiron, clamoroso, eh? Eh? Ti dico che hai fatto fuori Almiron. No, no, aspetta, Almiron in attacco l'evo a me. Almiron in attacco, vabbè, bell'idea, stravagante. Grazie Giacomo, un abbraccio. Grazie, grazie, mi fa piacere sentire voci nuove. Cioè, eh? Voci nuove. Fermiamoci, pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme perché abbiamo anche le immagini della vittoria del Bari Primavera ieri contro il Crotone 2-1, Bari Primavera che si sta abituando alle rimonte, credo che ne abbia fatto giro tra quattro in quest'inizio di stagione. Quattro, quattro. Quattro rimonte. Pubblicità.